Il clou della festa sarà domenica con la giornata del Paglio, però non che tutte le altre giornate, tutte le altre serate siano di meno perché abbiamo tutte le giornate e le serate con cultura, l'inventimento, musica e poi ci sarà anche un'ottima giornata storia. Voi siete rinomati per la cucina qua all'Arto. Lo dicono tutti, siamo rinomati per la cucina. C'è anche una cucina tradizionale, praticamente varzese, con la puchella e la pasta rustia che quello verrà fatto domenica.